a questo mio? eh l'ho piaccata è un attaccato personale che fa? ma che la vieni? l'avvocata è la Madonna non ce la faccio, che fa destraggio come no? la parola deve fare qua vai, vai, vai no dai, a prima o a prima con la prima Teresa 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 no, no, no no, no, no parla Teresa vabbò vai, io le volevo ringraziare bellissima e questo per le chinaggio no, no, no una parola me la devi dire sei stata bene aspetta, fatemi pensare no, ti intrecchito guardiamo qualcosa di sorpresa allora per me è difficile parlare perché non sono brava con le parole però niente volevo ringraziarvi tutti voi le cinque cose belle che dice sempre Don Massimiliano la prima la prima siete stati tutti quanti ma che no veramente sono stata bene spero di tornare l'anno prossimo con voi grazie grazie ma siamo già pronti ma siamo già pronti va bene va bene va bene grazie a tutti